Con l'assessore Justin Galluzzo del comune di Cassia San Giorgio parliamo delle iniziative qui nel centro dell'agro della riva a Santa Barbara. Oggi 4 dicembre, una delle prime feste del mese di dicembre si festeggia Santa Barbara, santo patrono di Torello, un borgo che appartiene alla nostra amata Cassia San Giorgio. L'anno scorso è stata una festa più viva, più sentita, con tanta collaborazione dei cittadini del paese. Abbiamo fatto due giorni di evento Vivir Natale, quest'anno non è stato possibile. Però nonostante ciò ci siamo attivati con il prete che alle 18 di stasera farà una bellissima messa e ci saranno una piccola sorpresa per i cittadini del paese voluti dal sindaco e dall'aggiunta comunale. Che iniziative avete programmato? Che iniziative? Insieme al sindaco e all'altra collega Antone abbiamo fatto un tavolo, ci saranno dei pacchi alimentari da dare alle persone bisognose, ovviamente seguendo delle regole, delle normative e quant'altro. Ha sposato bene l'idea di questa iniziativa del sociale, anche il comandante Contaldi che si è attivato con i suoi contatti, con il suo fare per avere alimentari in beneficenza per poi donare a queste persone che ne hanno di bisogno. E proprio stamattina sono stata lì al comando e ho visto la protezione civile attiva nel consegnare beni di prima necessità donati. Grazie per la visione!